Ciao fiorelline, ciao fiorelline, anzi prima di tutto vi voglio far vedere gli orecchini d'argento che me li sono messi ieri a cerchio perché quelli della farmacia erano troppo stretti, questi invece si muovono. Va bene oggi facciamo un video a spesa, poi mi sono pure legali da peri, oggi facciamo un video a spesa, però mi sono arrivate due cose di shay, che ho ordinato per i telefoni, vi faccio vedere i miei dopo la sigla e poi vediamo la spesa, via la sigla. Ecco siamo arrivati, allora abbiamo comprato, ho comprato, vabbè ragazzi se l'è messo questo qua, vi faccio vedere, questo è del frigorifero che c'è lo scatto, non si apre il frigorifero, da me il telefono, se l'è messo già il telefono, questo è suo per galaxy a 54 e questo invece per galaxy a 14 che è per il mio telefono, io l'avevo comprato con l'uvali però era per un altro modello del telefono, l'ho regalato a mia figlia quella che fa le cose, questo qua, vabbè questa c'è sta cosa di plastica, è fatto così, di plastica normale, dietro c'è questo cuore, questa scritta qua e tutti i brillantini, dopo lo metto al mio telefono, allora come sapete sta per arrivare Natale, come vi dico tutti i giorni a preparare cose di Natale, sempre queste cose qua e sono andata a fare la spesa, ma allora abbiamo comprato prima cosa l'arancia, che ragazzi si fa le spremute, questo l'ho comprato Euro Spin questa sera e l'ho pagato a 4 euro e 06, infatti è questo qua, però quello della spremuta l'ho comprato H4 dove faccio vedere lo scottrino, poi ho comprato questi e credo che io ci ho altro, ma mi piace troppo, è come pizza, ha un sapore buonissimo, poi ho comprato i creche per fare l'antipasto, poi ho comprato due cose di salame, che questi vanno bene sia per me perché è senza glutene e lattosio, questa qua, senza glutene e lattosio, poi ho comprato che il 24 facciamo la vigilia e friggiamo, però ragazzi mi fa male, è per lei io ho comprato questo qua, poi ho comprato l'insalata russa, che ho trovato solo l'insalata russa, con la del fegato, vediamo domani se la trova civita, ho comprato ho comprato i salamini, i salamini, i salamini, i salamini, che mettiamo per piatto, poi ho comprato questo qua, perché poi il prosciutto, il capocollo, le robe lì così, per fare l'antipasto ce l'ho dentro il frigorifero, mi mancava solo questo, e ecco, ho speso 27,51 euro, vabbè se si vede, va bene, io adesso vi posso lasciare, perché a fine questo video, spero che vi è piaciuto, e ciao al prossimo video, non sono dei cati capelli, ma mi fanno schifo, vabbè, ciao Ciao